L'amministrazione squilibrata paga affitti salatissimi e cede propri immobili a prezzi stracciati. L'amministrazione comunale di Siracusa avrebbe pubblicato un bando con il quale dà la possibilità ai privati di prendere in affitto il locale dell'ex convento del retiro in via Mirabella a prezzi stracciati, lo dichiara l'onorevole Vincenzo Vinciullo. La cosa almeno anomala se non surreale, il comune infatti paga canoni significativi per locali che ha in affitto e che sono destinati ad uffici comunali, nello stesso tempo però pensa di cedere i propri immobili a prezzi stracciati andando contro quella che è la buona prassi amministrativa di un padre di famiglia. Infatti, ha proseguito l'onorevole Vincenzo Vinciullo, cosa fa un buon padre di famiglia? Affitta un appartamento a costi altissimi e nello stesso tempo concede invece i propri immobili a prezzi stracciati se non politici? Per questo motivo, a concluso Vinciullo, chiediamo all'amministrazione comunale di adottare la strategia del pater familias, cioè prima utilizzi i propri immobili e poi prende in considerazione l'ipotesi di prendere in affitto quelli dei privati e se proprio ha una sovrabbondanza di immobili li concede in affitto a prezzi di mercato.